Sì l'ho guardato io Eccolo il tempo bello Eh andiamo verso 100 Ah ma che figo Raga se trovate munizioni dei voli fammelo dite per favore Sì 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 Andiamo E Valerio? Lo lasciamo qua scusa Eh viene anche lui Sto andando verso 100 Esatto sì Palazzoni qua Ma c'è qualcuno? Sì è atterrato uno qua Dove sono i palazzi in costruzione Prenda qua già tutto è luttato Eh appunto era quello che aveva atterrato Ma sarà su tipo se torri qua Oh Eccolo eh sopra 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 Ma come cazzo è possibile? Vai su veloce C'è un altro su verso Sei buttato di sotto Dove? Tiro su Sam Tiro su Sam Tiro su Sam Bendi Samuele come si fa? Sì Oh se ci abbiamo medikit o qualcosa me lo potete dare? Ce l'ho io Io ho bandage ma mi servirebbero Quello c'aveva un'arma Iaco? Eeeh C'è un 416 se vuoi ma ci sono Qualcuno mi stava checkinando raga comunque No è possibile Arriva in gente C***o mi ha tirato su cazzo Ok uno è giù Ah cazzo Sam Aspetta faccio il giro Mi vado a destra io Oh destra 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 Eeeh verso 255 C'ero qua Sto giù sto giù Che c***o Che gran c***o Tirammi su Oh c***o Aspetta aspetta c'è uno Ma io sto giù Eh lo so cosa devo fare Vieni qua dietro l'albero Ah sta facendo il giro Vieni tu qua da me Che c'è la descesa qua del terreno Sta per crepare No no neanche ancora Eccolo Eccolo Eeeh Mi sto ammazzando Va 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 Sono morto addio L'ho tirato giù Mi pare di si Eh arrivo al mondo adesso C***o Dimmi che c'hanno qualcosa Prendo la cappa Occhio che arrivano Eh ma non c'ho niente io Vieni dietro sto c***o di muro Arrivo C'ho dieci colpi per la cappa E basta No ce ne sono qua Ce ne sono qui Prendeli Ok 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 Occhio che arrivano Prendo l'antibiotico Oh c***o Occhio Eh no Sto con l'antibiotico Stavo prendendo Non potevo sparare No Figlio di p***a Ok mi risalvi La vita Che cavolo però Non ho niente Niente Calma 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 Ce l'hai un kit? No Prenditi gli antidolorifici Ne ho uno Vieni qua Vieni qua Vieni dentro Eh Iago Iago Non sono giusto Vado dentro al palazzo Vado prendere le cose Almeno avevano kit Penso Prova a vedere Questo c'è qualcosa Ok vieni qua Vieni qua Sono tutti morti Qua c'è un kit Se vuoi Ok subito Ok qua c'è uno Perta il kit Ah ce l'ho io qua Scusa Sì sì L'ho già Se vuoi messo il marker Ok Ciao Non andare verso la casa Vai a destra Nel cazzo di campi Ma perché Si è tutto liscio Quello era tutto programmato Ci hanno dato La pista sbagliata Siamo a terra Di Per tutto sbagliato Ok a destra Segui la macchina Segui la macchina La vedi Sì Non più Fermati 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 Sono scesi Ok io C'è un altro Vai andiamo andiamo Attacca 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 Oh Vabbè Ma questo perché è rimasto così Questo è rimasto in piedi Iago io te lo giuro Dai 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 Concentrati 762 Non ce ne sono Mini 14 Meglio del carro Dai Aspetta Tiago Sei No Aspetta un attimo Per favore Sto facendo Troppi cambiamenti Cacchio Non ci sto capendo Niente Il potenziatore Non lo posso mettere Il puntatore laser Non lo posso mettere Questi li posso prendere No Le bevande energetiche Sei un grande Per favore Le metto Questo qua No Ok Ok ci sono Ci sono Che coglione Stavo per Stavo Stavo Vai vai Vieni 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 Dove Minchia Stai Anzi Sai cosa No no Vieni qua Aspettiamo di cerchinarli Aspettiamo che arrivino esatto Questi qua Eccoli Dove Li vedo Con gli ubagi Direzione 230 Ah ok Vai Locato Occhio Bella Ce n'è ancora uno Sì Ce n'è una macchina 215 E' sceso Sono sceso Sono sceso Sono tre Bella Uno Naccato Dai Manca l'ultimo L'ha preso l'altro L'ha preso l'altro dal capanno Occhio L'ha preso l'altro dal capanno a destra Uno Ce n'è sta un altro Abbiamo messo il capo a uno Ok Tutti giù Bella Quello dove c'era il capanno piccolino Lo stava tirando anche Ma guarda lì li abbiamo messi giù tutti No allora Ma quello lì O io ho visto che era morto quello del capanno Ne avevo uccisi sei Tiago ne abbiamo uccisi cinque No ma scusa Eh lo tre erano dalla macchina e due dall'altro Tre dalla macchina Non erano due Tre dalla macchina ne abbiamo uccisi E due da quest'altra parte Sono morti tutti Andiamo a prendere le cose Sì sì Siete sicuri? Attenti eh Ma devo rimuffarla Ma devo giro largo C'è uno dietro al capanno Secondo me No Hai visto Andiamo a controllare Ok mi muovo a destra Più a sinistra Mamma mia In chi ha il mini 14 penso che sia la mia arma preferita Eh il mini 14 Questo capanno qua dove c'è di un buggy Sì Controllo Ah no è morto sì Ah l'hanno ucciso quelli con No no l'ho ucciso io Iago L'ho ucciso io quello Pirino 2 per Non ci serve Questo mi può servire No? Compensatore sì Perché stai prendendo l'antilorifico Iago se hai tutta la vita? Perché mi dà più velocità E mi dà resistenza alla corazza Se trovi i kit me li lasci Eh sì ce ne sono cinque qua se vuoi Oh cazzo 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 Da dove? Eeeh Da ovest Coprimi 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 sto qua No Da ovest 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 2.40 Dalla mia posizione A destra A destra A destra A destra A dritto là Dove? Tirami su Tirami su Mi hai sparato da sotto il furgone Occhio No via 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 Sposta ti sposta ti sposta ti sposta Fermo fermo K andiamo A curarmi Lo vedi dov'è? Lo vedi dov'è? Sopra la collina Oddio Ucciso Aspetta Iago L'hai ucciso? Si Rissaliamo sopra Rissaliamo sopra No andiamo a prendergli le cose Eh aspetta aspetta Ehi dove via tutta la roba di quell'altro Ancora Eh appunto Io di quelli dico Merda Iago Mi sono Mi hanno impanicato tantissimo Non so come cazzo mi hai fatto salvarci Non vedo nessun altro Sembra da solo Boh andiamo Andiamo la macchina per muoverci No no Andiamo a piedi Dici Secondo me non conviene Andiamo su un'altra collina con il di un bug Ok andiamo qua Ma non ti neanche la velocità Eh Infatti sto facendo questa cosa a posto No 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 no. Cosa? Vai vai vai. Dimmi qualsiasi direi di Whoever's doesn't have a escuela active. Eh fermati, 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 a destra, a destra, stanno arrivando. Li vedi? Dove? A destra. Vini, 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 vini. A destra? Qua, qua, 80, 80. C'è una jeep. C'è il drop là? C'è il drop là? Dritto qua di fronte a noi c'è una macchina che si è fermata Beh, mi metto con l'automatico Ecco l'ho preso, uno l'ho tirato giù, uccidi l'altro Nooo, nooo 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 Ce l'avevano visto anche loro, cazzo Nooo Mi raga, io vado a mangiare